Padova ha scelto una linea dura contro gli accattoni, anche a Venezia ci sono parroci che stanno venendo lo scoperto, stanno invitando a non dare l'emosina, qualcuno però invece dice che è troppo dura questa linea che invece anche queste persone hanno diritto di vivere. No, guarda, se tu hai fame e io ti sfamo e ti do un panino o ti do un litro di latte, certo è che condivido appieno la linea che si sta tenendo a Padova, nel senso che era l'occasione anche per mettere un punto fermo, il che non vuol dire che l'unica lettura sia quella del razzismo come qualcuno vuol dare, ma è anche vero che bisogna porre fine a tutte queste modalità che vanno oltre alla ricerca del pezzo di pane per sfamarsi.